È la vera rivoluzione degli ultimi anni, considerato il fatto che è l'unica macchina che effettua lifting del viso non chirurgico. Questo lo riusciamo ad ottenere grazie a degli ultrasuoni estremamente particolari e innovativi che arrivano direttamente sullo SMAS, che è la regione muscolare del volto, ed è la regione sulla quale noi chirurghi generalmente agiamo quando vogliamo intervenire per un intervento di lifting del viso. La macchina riesce a fare tutto quanto quello che normalmente fa la chirurgia, effettua la chirurgia, senza ovviamente nessun tipo di taglio, per cui molto più accettato dal paziente, molto meno doloroso, molto meno evidenti anche i post-operatori dell'intervento, considerato il fatto che l'intervento stesso ha una durata di un'oretta e il paziente può riprendere la propria vita sociale immediatamente dopo il trattamento. Le pazienti che effettuano ulterapy sono tutte soddisfatte con una percentuale molto prossima al 100%. Questo a patto ovviamente che si spieghi effettivamente bene al paziente quali sono gli effetti dell'ulterapy. L'ulterapy dà un effetto assolutamente evidente ai pazienti già dopo il terzo mese dal primo e unico trattamento, considerato il fatto che il trattamento, come dicevo appunto essendo unico, ha una durata nel tempo di un anno e mezzo o due anni, per cui il paziente in questo lasso di tempo vedrà gli effetti benefici e positivi del trattamento effettuato.